In questa legge di stabilità abbiamo scoperto che il signor Renzi si riserva 500 milioni da poter distribuire lui come vuole e ovviamente dare ai vari comuni amici proprio per affrontare la campagna elettorale. Proprio marchette anche in questo caso finalizzate a farsi bello nei confronti dei sindaci a cui si aggiungono gli altri 800 milioni che c'erano nel decreto enti locali. Noi abbiamo chiesto che questi fondi fossero destinati per altre cose molto importanti come per esempio per aiutare gli esodati, per aiutare le donne del terzo trimestre 2016 che non avranno la pensione. Abbiamo soprattutto chiesto che questi fondi fossero destinati ai disabili perché pensiamo a queste famiglie che hanno a carico un figlio o un parente con disabilità tutte le spese che hanno e addirittura non le possono nemmeno detrarre dal loro reddito. Noi ci siamo opposti e ovviamente la risposta del signor Renzi è stata no, no, perché lui pensa solo alle cose di immagine, fare apparire praticamente tutto fumo, niente arrosto.